L'azienda marchigiana Fileni ha fatto dell'innovazione, del capitale umano, del benessere animale, della sostenibilità ambientale, nonché del biologico, i principali driver di competitività. E in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, ieri sera la vicepresidente Roberta Fileni, con il presidente Giovanni Fileni, ha presentato durante la settimana delle Marche all'Expo di Dubai il convegno dal titolo La Rigenerazione come Bene Comune. La giornata è terminata con una cena show cooking Fileni Bio, il gusto delle Marche, curata dallo chef Max Santoni. Un percorso sensoriale alla scoperta del gusto biologico marchigiano. Location di questo esclusivo evento è stata l'altrettanto esclusiva cornice del Me Hotel. Hotel iconico di Dubai, situato nell'epicentro culturale della città, è l'unico al mondo ad essere stato progettato, sia all'interno che all'esterno, già Zahadid Mohamed, l'architetta britannica di origine irachene, che nel 2004 è stata la prima donna a vincere uno dei massimi riconoscimenti in ambito architettonico.